La mensa per i più piccoli a Bari è finalmente partita, sia pure con un po' di ritardo e qualche esitazione. Due leditte operanti, la Disa e Vivenda nei lotti 1 e 2. Tuttavia, il loro servizio potrebbe subire nuove sorprese man mano che andranno avanti i filoni legali. Bisogna infatti trovare un accordo e la speranza delle famiglie e dei bambini è che ovviamente tutto fili liscio, ma è necessario, sottolineano, mettere le basi per un servizio che d'ora in avanti sia sempre regolare e che parta dal primo giorno dell'anno scolastico, sempre e soprattutto senza deroghe e che il Comune possa obbligare da questo momento in poi la ditta vicitrice ad assicurare l'inizio del servizio sin dal primo giorno. Ecco perché le proteste e soprattutto i sit-in sotto Palazzo di Città per far sentire la propria voce, il proprio punto di vista. Quello che desideriamo è avere appunto un team di persone che abbiano stretto contatto con il Comune, appunto questo tavolo di cui vi parlavo, per sapere già per esempio nel mese di luglio quando incomincerà la mensa e se ci sono dei problemi riuscire a prevenire questi problemi per tempo. Quindi lavorando tutti insieme, vedendo quali sono i punti di debolezza di questo sistema perché evidentemente da qualche parte c'è un punto di debolezza. Quello che chiediamo poi, noi giunta mensa già lo facciamo, quello di incontrarci periodicamente, normalmente due barra quattro volte all'anno, ci sediamo con la nutrizionista, chiediamo anche all'ASL di presenziare perché sapete bene che alle volte non è molto gradito il pasto che viene servito, quindi c'è molto spreco.